Pensiamo che stiamo venendo presto perché così cosa vediamo? Vediamo il ponte si spera senza turisti. Poi ovviamente come potete vedere ai lati i negoziati sono tutti chiusi sono riaprendo proprio ora. Abbiamo colazione dopo quindi stiamo andando con la fame per vedere. E per me questa è una cosa bruttissima perché io non riesco mai senza aver mangiato prima. Quindi vedete che dobbiamo farci? Eccoci qui. Stiamo vedendo il ponte. Eccolo. Siamo per l'ennesima volta sul ponte. Andiamo a Salè. Vi raccontiamo un attimino un paio di curiosità su questo ponte. Potete notare che durante la giornata ci sono delle persone in costume, degli uomini in costume, e che temporeggiano. Sulla sommità. Che nell'attesa diciamo di effettuare quello che devono fare attendono appunto che le persone diano i soldini per dare poi spettacolo. Nello specifico loro infatti vanno a buttarsi dal ponte e vanno dritti sulla nerefa. Una volta invece l'azione di buttarsi dal ponte era invece un'azione dovuta al fatto di superare, di arrivare alla maturità. Quindi per il ragazzo che era giovane fare il tuffo appunto significava diventare. Si. Tantissimo tempo fa quando ancora appunto a Mostar c'era la divisione tra le varie culture c'è stata anche una sorta di storia d'amore stile Romeo e Giulietta con Alexa. Mi pare si chiamasse lui. Lui era serbo e poi una bosnacca di nome Elema. Una bosnacca c'è scritto nel libro io dico quello che c'è scritto è lì. Adesso andiamo a fare un bel caffè a bosnacca. Cos'mierda. Ciao. Era sorta. Entra in Moschea, abbiamo i biglietti, 6 marchi, 3 euro ciascuno, le donne devono venire con le spalle coperte, non è necessario col consiglio al riso. E se non avessi dietro la pashmina? Se avessi davanti, ci sono più disponibili i veli e le calze, perché non si può entrare a scalzi. Vanno per entrare in questo scopo, ci sono problemi. Questa è la scaletta che ci porta su. Siamo nel mio reto, c'è una scalacchiocciola che mi ha bloccato, perché io sono un camone e soffro di vertigini di claustrofobia, anzi, ma adesso è molto angusta. Sono una persona sola e io mi sono bloccato. Nel mio reto, come vi는데, questa è la scoperta del segno. c'è bellissimo perché con le 3 euro si entra anche qui dove si può stare con questa meravigliosa vista cioè veramente bella come? ci hanno dato un dolcino prima da mangiare prima o dopo il caffè tu l'hai già assaggiato ma hai detto che è troppo dolce e il powder si sta all'interno Sì, ho messo l'interno e è davvero buon caldino. Scusate. Non preoccupi. Scusate per il mess, ragazzi. Scusate. 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 Andiamo fuori? Scusate. 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 Il caffè bosniaco c'è. Con il logo all'interno. C'è il dolce turco che è fortissimo. È grumo. C'è sempre quasi fatto con gli agrumi. È dolcissimo. A base di molto zucchero. Ci hanno consigliato di non mettere le zollette di zucchero perché dicono che quel dolce serve a bilanciare bene il caffè. Ma io l'ho zuccherato però. Ok. Vado. Verso. Versa. È un po' chiaro rispetto al nostro caffè. Nel senso è più liquido. Però adesso vogliamo la ciccia. Dai prova. Vado. Dai. Poi ci hai messo più zucchero che... Eh ma io se non ci metto almeno due bustine in Italia figuriamoci. Vado. Dai. Ok la posa. Fa un gusto metalloso. Sto spiegando come fare veramente bene il caffè. Bisogna prima mettere l'acqua, due cucchiaini di acqua così, nella tazzina. Poi prendere lo stesso cucchiaino e mescolare fino a quando non si deposita tutto quantissimo. E poi prendere piano piano. Far scendere così un po' di caffè. Vedete se è... Ha detto marrone buono, nero non è buono. Quindi qua è ancora buono. Adesso noi abbiamo aspettato perché il caffè si è depositato. Andiamo a completare così. In questo modo. Vedi? Ok. È ancora marrone. È ancora buono. Siamo in una stradella molto centrale di Mostar. Ci sono molti negozietti di souvenir locali. Ci sono ancora i segni della guerra. Quella casa a Criel fa dei colpi. di rifare il vero ponte di Mostar. Si sono esercitati e ne hanno fatto uno in miniatura che è qua. Un po' più a nord. Più decentrato però c'è. Eccolo qua. Siamo sulla prova del ponte che hanno fatto. Comunque diciamo che è molto carina la città. Per quanto riguarda lo stato di Mostar, quello che vedete attualmente è alto 20 metri, lungo 29 e largo 4. E' composto da ben 456 blocchi di età calcare. Questa è ovviamente la riproduzione, se si può dire così, o comunque la copia di quello che c'era precedentemente. che è stato abbattuto durante la grande guerra patria nel 1993. Nel 2004 grazie all'UNESCO e grazie anche ad aiuti internazionali è stata appunto realizzata nuovamente con gli stessi materiali diciamo di prima. Seguendo lo stesso progetto. Seguendo lo stesso progetto. Quello che avevamo visto precedentemente. Chi l'ha seguito? L'università di Firenze. Quello che avevamo visto il ponte piccolo era una prova per vedere se riuscivano poi a fare anche la versione grande. Siamo nel momento più conclamato. che sarebbe? Che cosa vendono di buono? Forse costruisci. Buongiorno. 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 Quelli. Siamo usciti dalla peccara. Abbiamo preso tutto questo. Pane, panini. Abbiamo preso un pane che poi si spezza e diventano dei mini panini. Quello a forma di rosetta. Quella con la quale abbiamo fatto conoscenza stamattina. Grazie. Poi abbiamo preso due cornetti al sesamo. Sì. In più una specie di sfogliatina alù grande con del formaggio dentro. I piani di formaggio. L'abbiamo pagato in tutto? Un Marco e 80. Poi gli ho dato un euro su un euro va bene. Quindi un euro. Dunque siamo stati a un market qui vicino al hotel. Adesso stiamo per andare via. Abbiamo fatto un po' di spesa. Stiamo per lasciare la rivente mostra. Oggi c'era una giornata di viaggio. Sì, un po' lunga. Forse sei ore di macchina? No, quattro, quattro ore e mezzo. Forse ci fermiamo a Međugorri. Vediamo se ci verrà l'illuminazione di vini. Comunque volevo farvi vedere quanto abbiamo speso poco. Abbiamo preso sei banane. Una coca cola. E poi? Solo questo? Sì. Abbiamo pagato un euro e monetine. Pochissime. Il pranzo di Mostar. Nella villetta. Sonno. Un panini con gli affettati locali. In bontà. Questo è il frutto di quello che abbiamo preso. Pecara. Pasticceria e panetteria. Questa è una cosa buonissima. che dentro c'è formaggio. Ma rientra sempre in quegli 80 centesimi di tutto. Quindi non lo so quando l'abbiamo pagata. Ma è veramente buona, buona, buona. Ma quanto ti ricordava, hai detto? Ah, un pastizzo. Sì, tipo pastizzi. Un pastizzi di? Matta. Buona? Buona, buona. Provare per credere. Lo mordo? No, no. Buona. Buona nuova video. Come commento? Come si offrirà? Međugorje, luogo di apparizioni della Madonna, nel senso non io ovviamente, apparizioni non della Madonna come esclamazione ma che è apparsa la Madonna, realmente. La Paglia, la Paglia, la Paglia, la Paglia, la Paglia. La Cosa. La Paglia, la Paglia, la Paglia, la Paglia. una piccolissima sosta a Meggiugori perché ci siamo accorti che dovevamo redimerci dal male per seguire la Madonna. Comunque, che dire, c'è la chiesa, ci sono le chiese, ci sono tantissimi negozetti di souvenir che vendono tutte le stesse cose e quindi ci vediamo. Ciao! Stiamo per lasciare la Bosnia. Abbiamo approfittato questo gelato super colorato. Buonissimo! Ciao Bosnia, fra un po' c'è la Dogana. Siccome mia moglie è ricca, sta per prelevare mille. Cosa? Sta per prelevare mille, mille e cinquanta per la pesizione. Giusto? Attenzione perché alla fine è le mille e una po' che è andata veramente. Oh! Quella è la 500. 500. Vuoi? E poi quella è la 200. Beh, brava. La mia riccola. La ricevuta. Dove siamo? A Split. Che sarebbe? Spalato. Una cosa che accomuna tutti i centri storici della Croazia, della Grecia, dei Balcani in generale, cos'è? Questo pavimento che, come si vede, è luccica, sbrilluccica ed è liscissimo. Si scivola. Si scivola tantissimo. Comunque, volevamo dirvi che è Spalato, quindi Splitting Croato, è una delle tante location in cui hanno ripreso diverse scene appunto per Game of Thrones. Nello specifico qui hanno fatto Merin, la città di Merin. Ok, poi c'erano alcune rovine, ma invece di qua, da quest'altro lato, vediamo la porta dalla quale siamo entrati. Molto carina. che si fa con la patata? Dunque, c'è un locale, Luxor, e di tutto ti prendi qualcosa da bere e poi ti scegli uno dei tanti posti per il cuscino da terra, perché ci sono. E il mini tavolino. E il mini tavolino. E ti prendi qualcosa da bere per rimprestarti un po' da questo caldo. Però, c'è da dire che abbiamo preso una bellissima guida turistica direttamente da sotto il culo di quella signora là, guarda, indicala. Vai così. Quella seduta sulle scale, che praticamente ha detto, volete fare un giro guidato? No, no, no. Volevo la cantiglia. Ah, te la dò subito, si è alzata. Ci sono le tue chiappe. Come si scrive? Dove siamo? Sto per farvi capire quanto sognalante. Sto per chiedere a mia moglie come si scrive a leggire lei, perché lei è quella che sa le cose e io non so mai un cazzo. Dove siamo? Siamo a Spalato. Palazza Giudita. Stiamo per prendere un caffè bollente, perché abbiamo freddo e ne abbiamo freddo. La tipologia di vicoletti che hanno usato per girare le scene... Le strade di Marin. E' proprio questa. Poi ci sono gli sterni di Marin, dove hanno giustiziato alcuni personaggi della sala. E poi ci sono ovviamente in un'altra parte. Ma quindi siamo qua, in questi vicoletti, che siamo direttamente alle spalle dell'ingresso. Com'è che si chiama lui? Mamma! Mamma! Vabbè, insomma, è il drago di... Daenerys. Daenerys. Dunque, oltre al museo di Game of Thrones come il drago abbiamo visto prima, c'è anche il shop ufficiale. Sì. Dove potete vedere all'intorno che c'è un trono di spalle, una riproduzione. Ovviamente per fare la foto sul trono di spalle dovete comprare un gadget. E prima che i gadget sono... Calamite del caso. Non proprio economici. Sono tutti del franchise. No, più di 12 euro una calamita. Una calamita. E' della cosa più economica. Allora, sicuramente vi farò la foto sul trono, ma direttamente a Dubrovnik. Quindi da prototel. Nonna Merin. Cari. 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 Questa sera si ciana con questo bellissimo Buon veder Direttamente da casa nostra Salsicce, tonno, callipo E fustino da quella bicicletta Altro che 5 stelle Questa è 10.000 stelle questa cena Grazie a tutti! Grazie a tutti